ok ci siamo volta abbiamo cambiato riserva infatti qua non ho girato molto un punto questa direzione qua e non sbloccare questo e oggi vorrei andare a caccia di orsi quindi un attimo a giocare con il nostro cagnolino poi decidiamo le armi da portarci anche già best frezzi a vedere anche i richiami migliori per questa zona un attimo allo store orsi orsi questi ancora li dobbiamo sbloccare no degli orsi li dobbiamo ancora sbloccare mi manca un livello ricacciamo alla classica non andiamo facciamo una cosa intanto scegliamo gli armi da portarci questa è questa sicuramente sì che sono gli amici grosse che abbiamo questo possiamo se ce la portiamo questo non penso che ci serva quindi va bene così questo lo mettiamo qua inventario ho fatto questo possiamo partire a volo non è morto non è morto due tacche di sangue 0 25 se capito addosso ecco il mio cagnolo ok raccogliamolo e e e e e e e una volta che siamo qua una di queste che fa? no le prendi che carino le ho spaccato qualsiasi cosa ma che carino no 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 un cucciolo mi dispiace un po' però no 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 lindo no 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 ok oggi questo internazioni di rubazione adesso cerchiamo la organo non vitale ma un organo è stato colpito quindi qualcosa di danno dovrei averglielo fatto molto basso e che cacchia 50 25 50 ma la rossa la bestia che ho sparato livello 8 quasi quanti bisonte un'occhezza da chi chi Grazie a tutti 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 Oh vedi che comunque non l'ho buttato giù Grazie a tutti 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 Grazie a tutti